e amici di border nights riprendiamo i nostri incontri della domenica per chi ci segue in diretta e a domenica alternate torneremo a parlare di temi molto interessanti insieme a Marco Massignano ciao Marco ciao Fabio un saluto a tutti gli ascoltatori ben ritrovati passata una buona estate direi di sì piena di cose da fare finalmente la possibilità un pochettino più di girare insomma cosa che non era stato possibile nel recentemente come ben sappiamo come sempre poi nella descrizione trovate tutto di Marco di cosa si occupa il suo sito i libri i vari libri che ha scritto che sono molto utili nella lettura per la nostra vita la nostra anche quotidianità nel nostro canale sapete che spesso abbiamo parlato di film e di serie tv chiaramente in una chiave diversa rispetto al solito e Marco è stato molto colpito ma mi diceva un po in tutto il mondo olistico eh da una serie che è uscita su Netflix è una serie turca e questo già è molto particolare vediamo ecco qua si chiama another self chissà se vi siete mai imbattuti in questa serie della quale adesso eh ci parlerà Marco vediamo anche la la locandina e eh dicevamo dunque di questa serie per ora è uscita una stagione ma eh probabilmente ce ne sarà un'altra è uscita a luglio è un prodotto che ha fatto appunto discutere il mondo olistico perché è il primo prodotto che possiamo definire di massa eh che parla esplicitamente del metodo terapeutico delle costellazioni familiari il che Marco è davvero molto particolare direi anche sorprendente considerando il livello classico no che troviamo su Netflix sì eh io sono rimasto favorevolmente colpito dall'uscita di questa serie tv che consta di otto episodi è uscita eh intorno alla metà di luglio forse un po' prima e mh assolutamente è qualcosa di a mio avviso di di livello qualitativamente superiore rispetto a quello che troviamo su Netflix ma devo dire che ehm non è la prima volta che mh le costellazioni familiari appaiono sul grande schermo eh però questa volta in maniera come hai detto giustamente tu esplicita anzi eh come vedremo proprio la trama e tutta l'impalcatura in realtà della sceneggiatura e del discorso che narrato in questa serie è proprio eh verte proprio sul processo interiore che si avvia nelle persone man mano che eh partecipano alle costellazioni familiari che ricordiamo sono una forma di terapia di gruppo poi possono essere anche declinate in una sessioni in sessioni individuali tra l'altro ehm si eh si vede si vedono stralci di una sessione individuale in una delle puntate della serie ma restano eh le costellazioni familiari un metodo eh di gruppo in cui nel lavoro di gruppo danno il meglio di sé e come dicevo ci sono stati dei precedenti soprattutto nel mondo Disney ehm film cartoni animati che sono usciti negli anni anni eh anni immediatamente eh precedenti quindi parliamo del film Coco ad esempio che è ambientato in in Messico è la storia di un ragazzino che va nell'aldilà e va nel mondo degli antenati e anche un altro film ancora più recente sempre del mondo Disney se non sbaglio di gli studio di Pixar eh che eh si chiama Soul a queste sono quei eh film che vengono fatti uscire in Italia di solito intorno a Natale anche questo un film a cartoni animati in cui eh invece si narra la la storia di di un uomo che eh muore e poi ritorna sulla terra quindi l'incarnazione e reincarnazione quindi sia Coco che eh Soul questi due film di Walt Disney della Walt Disney eh sono non parlano delle costellazioni familiari non vengono mai citate eh esplicitamente però soprattutto il primo Coco eh contiene un sacco di elementi che eh che si vengono esplicitati che vengono esplorati attraverso le costellazioni familiari come ho sempre detto da quando è uscito Coco sicuramente senza ombra di dubbio gli autori eh di Coco eh hanno partecipato alle costellazioni familiari e conoscevano conoscono questo metodo anzi a mio avviso sono stati proprio ehm ingaggiati eh persone che eh fanno questo tipo di lavoro eh per dare una consulenza in questo senso e quindi con eh questa serie tv turca Another Self che è uscita su Netflix ehm abbiamo una prima assoluta eh in cui invece eh le potenzialità enormi che il metodo delle costellazioni familiari offre vengono portate al grande pubblico e andiamo appunto su schermi di massa per cui eh milioni e milioni di persone che magari non hanno avuto mai accesso a terapie cosiddette eh alternative o meglio olistiche hanno avuto modo di eh visionare eh di 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 che cosa si tratta di sapere che esistono queste cose eh e che eh hanno una grande potenzialità di guarigione ehm sia a livello spirituale che a livello anche eh psicologico e a livello fisico come viene narrato nella nella serie. Come dicevo la novità è anche proprio il fatto che non è eh che eh le costellazioni familiari appaiono in un episodio anpassano oppure a margine eh della 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 trama e della sceneggiatura ma anzi è proprio la trama stessa eh che è incentrata sul processo interiore eh che si avvia eh in chi? Un processo di trasformazione, un processo di consapevolezza, di miglioramento eh della vita, un processo di ehm in alzamento dello stato di coscienza fattivo non le solite ehm così ehm farneticazioni ma eh un processo assolutamente eh concreto che si avvia affrontando così eh partecipando alle costellazioni familiari. La serie è proprio incentrata sul processo di queste tre amiche, processo interiore di queste tre amiche, eh che sono tre amiche eh di Istanbul che ehm una delle quali nella prima episodio eh viene le viene di è un avvocato, le viene diagnosticato eh un cancro e ehm l'altra un'altra delle sue amiche invece è un medico chirurgo e quindi ehm la cura insomma contribuisce così a a ad aiutarla finché questa questa la prima la prima amica ehm le arriva una mail in cui si parla di questo metodo delle costellazioni familiari e va a un primo incontro ehm da Zaman che è il personaggio che eh raffigura il costellatore insomma il facilitatore e da lì si avvia tutto un processo ehm che ehm appunto porta a far sì che eh si possa illustrare il metodo delle costellazioni familiari con la scusa delle storie personali di queste tre amiche. Senza come si dice in questi casi spoilerare perché eh non è questo che faremo eh ma quali sono le novità di questa serie tv quindi considerando la trama, la sceneggiatura, le caratteristiche? come dicevo assolutamente il fatto che ehm in maniera molto intelligente ehm il regista ha voluto ehm così raccontare la storia di di tre amiche eh le loro storie d'amore, le loro storie familiari e anche il loro passato ehm attraverso ehm questa serie tv e mh ma in realtà il vero protagonista a mio avviso è proprio il processo interiore eh che eh si dipana appunto con le costellazioni familiari quindi mh abbiamo man mano che gli episodi eh si susseguono eh vengono esplorate parti del passato, ci sono flashback nel passato in cui ehm si eh colgono momenti della vita eh infantile delle tre protagoniste o della vita dei loro genitori o dei loro nonni e quindi essendo che siamo in Turchia andiamo a esplorare mh traumi del passato come ad esempio il momento in cui ehm i turchi furono cacciati dall'isola di Greta eh piuttosto che le varie mh guerre e rivoluzioni eccetera del secolo scorso e dell'otto della fine ottocento in in Turchia e nei paesi limitrofi e vediamo come questo quel tipo di di traumi collettivi e quel tipo di traumi anche individuali delle singoli antenati eh delle protagoniste vadano a impattare sulla loro vita eh quotidiana attuale eh partendo appunto dai loro problemi attuali quindi quello che succede appunto nelle costellazioni una persona viene perché ha un problema eh vuole risolverlo e allora si eh mettendo in scena una rappresentazione familiare rappresentazione sinonimo di costellazione eh emergono eh traumi del passato come ad esempio eh che possono essere appunto non soltanto traumi dell'infanzia della persona stessa eh o ancora eh traumi avvenuti durante eh la gravidanza quindi la permanenza in utero prima di nascere ma anche traumi dei dei genitori dei nonni dei bisnonni quindi degli antenati eh del della persona e questo si evidenzia molto bene nella in questa serie tv eh e si dipana man mano ehm al tempo stesso ci sono scene mh numerose in cui proprio vengono vengono raffigurate si si fa vedere come si fa una costellazione quindi la telecamera entra proprio all'interno di una costellazione ovviamente è una fiction però è veramente fatto bene e ehm mentre ci sono dei dei girati delle 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 scene in cui ci sono si raffigura una costellazione e al tempo stesso ehm si ehm viene sovrapposta queste immagini vengono sovrapposte a quelle degli antenati che entrano nella scena a un livello più sottile e vanno a contribuire alla risoluzione del trauma per la persona nel momento presente e qui da lì in poi eh si eh si vede come eh questo questo processo poi continui eh nella vita quotidiana nelle interazioni tra i protagonisti perché ricordiamo è un prodotto eh comunque di Netflix quindi un prodotto tra virgolette leggero mh a volte drammatico ma comunque destinato al grande pubblico eh però è fatto molto bene appunto in questo senso proprio perché eh con la scusa di raccontare le storie delle eh protagoniste va invece a esplicitare qualcosa di molto più profondo e devo dire anche come ehm ha fatto notare una mia allieva ehm ehm è anche molto buono il fatto che eh il il costellatore la figura del costellatore che è interpretata da un attore appunto turco nel nell'afficcio lui si chiama Zaman eh la figura del costellatore non è eh equiparata a quella di un guru di una persona realizzata di uno che ha risolto tutti i suoi problemi vediamo invece che insomma è una persona che ha anche dei problemi personali che eh è una persona che anche apprezza il anche il vino in maniera tranquilla ehm è una persona che ha dei rapporti personali tra virgolette normali con gli altri e quindi si sfata un po' il mito eh del fatto che uno che sia un costellatore debba per forza essere un guru o debba per forza essere qualcuno di realizzato cosa che spesso eh purtroppo avviene in questo in questo ambito in che modo perché appunto dicevi che è destinato al grande pubblico questa questa serie in che modo un prodotto di questo tipo quindi per la massa può permettere di approfondire di comprendere questo metodo terapeutico all'avanguardia appunto quello delle costellazioni familiari guarda Fabio io mi sono sempre chiesto in tutti questi anni sono una ventina d'anni che appunto pratico insegno e formo eh allievi nel campo delle costellazioni familiari mi sono sempre chiesto come mai ancora nessuno ehm avesse realizzato un film ehm proprio dedicato alle costellazioni familiari e in finalmente poi inaspettatamente devo dire è arrivata a questa eh serie tv proprio perché eh le costellazioni offrono tantissimo essendo che sono come dire il modo in cui si fanno le costellazioni si mettono in scena delle rappresentazioni quasi fossero come delle rappresentazioni teatrali che però non hanno un copione il copione non c'è un copione da seguire come in una rappresentazione teatrale eh usuale ma ehm diciamo la storia anche se non è che si cerca una storia però eh la rappresentazione si dipana man mano con ciò che emerge dal sentire profondo dei protagonisti di di coloro che sono in scena e mi sono sempre chiesto come mai ancora nessun regista avesse sfruttato questo potenziale enorme che le costellazioni offrono anche da un punto di vista cinematografico e ripeto è arrivato evidentemente il momento ehm di di questo e questo mi fa molto piacere come dicevo prima ehm sicuramente ehm innanzitutto ehm questa serie tv offre l'opportunità a molte persone digiune totalmente da questo mondo che non hanno mai partecipato a una un seminario olistico che non sanno nemmeno che cosa voglia dire eh olismo o l'aggettivo olistico tante volte quando le persone mi chiedono che lavoro fai eh riposto rispondo genericamente l'operatore olistico o il formatore olistico e devo spiegar loro che cosa voglia dire questa parola ehm mentre invece appunto questa serie innanzitutto ha grosso merito di introdurre in maniera eh sobria in maniera concreta al di là di fronzoli al di là di misticismi che tante volte sono soltanto delle elucubrazioni mentali introdurre eh questo metodo un metodo eh innovativo nel campo della terapia e soprattutto e viene detto esplicitamente nella serie una terapia spirituale si osa dire questa parola e viene introdotta al grande pubblico quindi tantissime persone in tutto il mondo perché Netflix ovviamente sappiamo che è una un gigante in tutto il mondo viene distribuito viene tradotta la serie in moltissime lingue hanno l'opportunità di sapere di conoscere eh che esiste questo strumento che sono le costellazioni e esistono anche altri strumenti che vengono un po' accennati qui e là nella serie che non fanno parte della cosiddetta medicina allopatica e eh che ci sono queste possibilità ecco che hm diciamo la la spiritualità concreta una spiritualità che aiuta a migliorare effettivamente la vita delle persone non è un qualcosa che è relegato al passato non è semplicemente una fantasia ma è qualche cosa che eh è nel presente e anzi è proiettato nel futuro in forme nuove come appunto quella delle costellazioni familiari non abbiamo più bisogno magari non 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 tutti di fare rituali o cerimonie che comportino tutta una serie di cose che non sono praticabili nel mondo eh quotidiano in cui viviamo e lavoriamo ma attraverso uno strumento come quello delle costellazioni familiari in cui non c'è bisogno di eh oggetti esterni non c'è bisogno di particolari situazioni non devi portare alle costellazioni familiari i tuoi genitori i tuoi eh i cimieli dei tuoi antenati un sacco di altre persone basta che ci vai tu e attraverso questo modo eh molto pratico concreto e eh scevro così da fronzoli puoi lavorare su di te e migliorare eh fattivamente la tua vita quindi questo è assolutamente il primo e forse più importante merito di eh questa serie a mio avviso e poi il modo in cui ehm viene vengono narrate le storie delle protagoniste mischiando appunto a parte leggera i loro amori eh le loro difficoltà magari economiche le difficoltà professionali appunto uno le tre protagoniste sono una è un avvocato che a un certo punto rinuncia eh alla professione proprio perché si accorge che aveva inseguito eh nella vita tutta una serie di 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 fantasmi che l'hanno portata ad ammalarsi un'altra è un medico chirurgo che ehm appunto si scontra inizialmente con questo metodo disapprova le scelte della sua amica proprio perché lei è una una dottoressa crede eh soltanto nella scienza ufficiale e quindi ha un un rigetto iniziale viene un po' quasi costretta dall'amica a partecipare a un incontro emergono delle cose sue personali che la mettono in grossa difficoltà che invece sono proprio le cause dei problemi che lei sta vivendo e quindi ha uno scontro con con le sue amiche e anche con il costellatore e mette in dubbio tutto quanto per poi ecco non voglio dire come 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 si dipanna la storia e la terza amica invece eh la bella moglie di un di un faccendiere di un una persona che fa un po' di affari loschi eh e eh appunto interagisce con le altre due amiche partecipa anche lei alle alle costellazioni e anche per lei nei primi episodi emergono eh delle dei fatti importanti eh relativi ai suoi antenati che poi eh si riveleranno essere eh fondamentali per risolvere la sua situazione ehm personale quindi proprio tutto quello che ho narrato compresi anche le storie eh delle protagonisti al di fuori di quello che sono le costellazioni che vengono raffigurate quindi le loro vicissitudini eh precedenti e successive la costellazione i loro dubbi il loro mettere in dubbio il metodo delle costellazioni quello che emerge eh fanno proprio parte eh di quello che è il processo interiore delle costellazioni costellazioni sono cose che io vedo tutti i giorni e praticamente a mio avviso il regista non ha fatto altro che partecipare a costellazioni eh intervistare costellatori che hanno avuto un ruolo molto molto importante nella realizzazione di questo devono aver avuto io non lo so però non immagino non può essere altrimenti devono aver avuto un ruolo molto importante nella realizzazione di questa serie tv e quindi non ha fatto altro che esplicitare mettere su schermo quello che eh per io eh altre persone come me eh viviamo quotidianamente nel nostro eh lavoro eh con le costellazioni familiari quindi eh finalmente questo grosso potenziale eh è cominciato a essere eh portato a conoscenza del mondo e non è più eh da questo momento in poi evidentemente non è più soltanto eh un retaggio di circoli ristretti appunto quelli del mondo olistico in cui mh si eh si fanno queste cose sembra di vivere in un mondo a parte proprio perché è un mondo eh mi si consenta a livello coscienziale all'avanguardia eh rispetto al livello medio di coscienza appunto delle delle persone nel mainstream quello che viene e è a livello bassissimo invece che si può eh osservare sui giornali e alla tv generalista quindi noi rappresentiamo insomma chi effettivamente eh fa un lavoro olistico eh serio e concreto chi è professionista in questo settore eh chi lavora per il eh risveglio e la mh l'avanzamento della coscienza umana rappresenta un po' l'avanguardia eh di eh di punto quello che è l'evoluzione del genere umano che siamo chiamati a fare soprattutto in questo periodo di di grossi sconvolgimenti in cui eh le elite vogliono in ogni modo ci stanno attaccando in ogni modo da ogni parte proprio per offrirci a mio avviso l'opportunità di crescere più rapidamente e quindi benvenga eh che eh serie tv come questa di Another Self mh raffigurano finalmente eh questo esprimono finalmente questi temi e fanno conoscere al mondo l'esistenza di questi strumenti di grande efficacia. Dicevi appunto no del mondo olistico che sembra vivere in una sua realtà come ha preso il mondo olistico questa questa serie come è stata accolta eh so ad esempio che le costellazioni familiari sono un mondo molto variegato ci sono posizioni declinazioni diverse ci sono coloro ad esempio che seguono gli insegnamenti originali di Ellinger a chi come te invece ha integrato eh strumenti di tipo diverso quindi varie sfaccettature eh nel mondo delle costellazioni che non è un unicum e la tua posizione qual è allora? Dici bene è un mondo variegato eh quello olistico eh non è un mondo abbiamo visto in un video precedente in cui parlavamo dello sciamanismo le ombre e luci dello sciamanismo l'abbiamo chiamato e anche ovviamente il mondo olistico in generale il mondo delle costellazioni ma devo dire qualsiasi eh ambito ci sono ombre e luci come è ben facile immaginare per cui non è che sia tutto tutto bello tutto positivo anzi mh soprattutto per il fatto che chiunque eh può eh mettersi a eh inventarsi costellatore avendo fatto qualche corso e le detto qualche libro e ma la differenza è che se io eh come dico spesso eh mi improvviso in una professione che ha a che fare con degli oggetti o ha a che fare con dei servizi e magari non sono in grado di farlo o lo faccio da un punto di vista esclusivamente eh utilitaristo per 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 guadagnare dei soldi perché ho bisogno di di lavorare eh vabbè a limite eh danneggerò quegli oggetti offrirò degli dei servizi di scarsa qualità e a un certo punto poi gli utenti smetteranno di rivolgersi a me eh mentre invece se io faccio un lavoro con le con le persone con la il benessere delle persone con l'interiorità delle persone che mi portano come nel caso delle costellazioni familiari la loro storia i loro drammi i loro traumi eh è un lavoro sacro come dico sempre eh e tante persone di nuovo eh non sanno più la maggior parte delle persone non sa cosa significhi la parola sacro la parola sacralità proprio perché eh viviamo in un mondo in cui vici il dogma materialista e ci hanno insegnato che eh esiste solo la materia e la sacralità non esiste più ma eh la domanda che faccio spesso io è bisogna bisogna comprendere che ma che cosa che cosa vuol dire sacro se non il fatto quando una persona voglio dire mi mi porta i suoi problemi e chiede di aiutarla a vedere la realtà ad aprirsi aprire la propria visione a qualcosa di più grande beh se non è sacro questo allora proprio la sacralità non esiste più e qui quindi ripeto quindi per tornare alla tua domanda ehm direi che la maggior parte delle degli operatori eh di costellazioni ha accolto con favore eh questa serie ho letto soltanto eh commenti positivi sia in Italia che all'estero eh anche perché appunto ehm dato che è fatta molto bene la serie ehm è fatta in maniera da mh come dire presentare questo metodo ehm in maniera positiva non può che essere un biglietto da visita eh importante eh per molte persone mh per le costellazioni verso il pubblico quindi le è sicuramente un un qualcosa di molto positivo ehm ci sono è vero come dicevi oramai eh come sai le come come sai bene le costellazioni familiari sono state un metodo che è stato eh creato da Bert Hellinger che è stato uno psicoterapeuta tedesco che è morto qualche anno fa a più a 96 anni e eh ha lasciato un'eredità appunto di questo l'eredità a questo metodo eh ci sono oggi eh soprattutto in Italia ehm ma anche all'estero mh tutta una serie di operatori che lavorano con le costellazioni familiari e ehm dicono di seguire eh gli insegnamenti originali di Bert Hellinger eh mentre invece altri che come me fin dall'inizio in realtà fin dai vent'anni fa sono arrivati alle costellazioni eh nel mio caso appunto come sai eh dal mondo dei nativi americani quindi dalla spiritualità dei nativi americani eh dallo sciamanismo eh dalle esperienze che avevo fatto in precedenza e poi ho continuato a fare e nel mio caso io ho seguito un iter evolutivo sia personale che professionale parallelo a quello di Hellinger tanto è vero che ad esempio eh per fare un esempio nei una ventina di anni fa nel mondo delle costellazioni familiari secondo Bert Hellinger cioè la versione ufficiale di questo strumento eh non si parlava di reincarnazione eh c'è un video ad esempio di Hellinger con Rupert Sheldrake che io ho che risale appunto a una ventina di anni fa in cui Hellinger afferma che la reincarnazione non è non esiste sono implicitamente dice che la reincarnazione non esiste perché mh magari sono ricordi su ehm pseudo ricordi delle delle memorie degli antenati eccetera eccetera quando invece eh poi una decina di anni dopo Hellinger si ha ricreduto e ha modificato il suo lavoro eh parlando di costellazioni spirituali e introducendo il fatto che esistono memorie ehm non soltanto eh ancestrali ma anche memorie delle vite precedenti a quel tempo io non eh avevo ancora incontrato Hellinger ho imparato il metodo delle costellazioni dal suo al suoi allievi diretti sia italiani che tedeschi e austriaci questo venti anni fa e eh venendo invece io dal mondo delle ehm dello sciamanismo e dei nativi americani ehm ho sempre tenuto in considerazione il fatto che molte delle memorie che emergono durante le rappresentazioni familiari sono memorie di vite precedenti questo non perché io l'abbia deciso così mi sono sbagliato un mattino ho deciso che fosse così ma perché questo è ciò che emergeva dai lavori che facevo ehm questo ehm quando eh non si potevano spiegare determinate fatti che emergevano durante le rappresentazioni determinate memorie ehm soltanto il aprire la propria mente e prendere in considerazione il fatto che esistono le le vite precedenti che esiste il fenomeno della reincarnazione e quindi noi ricchiamo in noi anche memorie di vite precedenti ha potuto eh fornire una spiegazione e ehm contribuire a definire il paradigma e il metodo che invece utilizzo io che è quello delle costellazioni rituali che appunto in questi venti anni ho sviluppato insieme a mia moglie quindi eh bisogna tenere conto che lo stesso Hellinger non è che eh così eh abbia inventato tutto ma ha messo insieme molti eh eh molte terapie ma molti metodi terapeutici differenti per andare poi a creare il metodo delle costellazioni familiari e quindi ehm svilupparlo e cambiarlo nel corso del tempo man mano che emergevano nuovi elementi quindi a mio avviso chi è fissato soltanto sulle insegnamenti di Bert Hellinger che vuole preservarne la purezza e addirittura si arroga il diritto di dire che quelle sono le costellazioni autentiche e le altre invece no eh insomma è un po' eh fa qualche cosa che è antitetico allo strumento delle costellazioni e all'evoluzione eh noi stessi siamo tutti in evoluzione quindi quello l'essere umano come era vent'anni fa come era cinquant'anni fa è molto diverso da come l'essere umano adesso soprattutto con quello che è successo in questi ultimi due anni e mezzo e con tutti gli attacchi che il genere umano riceve ogni giorno da più parti eh adesso abbiamo il clima la crisi energetica il cibo fatto con gli insetti eh le 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 teorie gendere tutto la guerra eh tutte queste cose che insomma dobbiamo eh veramente fare un salto di qualità e invece di mh così nasconderci dietro dei nomi altisonanti l'ha detto Hellinger l'ha detto Jung l'ha detto quest'altra persona mh chi è su un cammino reale di consapevolezza deve chiedersi che cosa lui abbia da dire in che modo possa contribuire al benessere e all'evoluzione del genere umano tutto il resto a mio avviso eh sono ehm spesso sono cadaveri che appartengono al passato o sono come metodologie che insomma non sono più al passo coi tempi le stesse costellazioni familiari evolvono come ho detto e quindi nel mio caso ad esempio ho unito fin dall'inizio le costellazioni familiari alla agli strumenti di risoluzione dei traumi che vengono dalle neuroscienze quindi eh soprattutto dal lavoro di eh diversi terapeuti eh nordamericani e ancor di più allo sciamanismo e agli insegnamenti che ho ricevuto nella mia vita dai eh miei insegnanti nativi del nord america quindi queste cose vanno a comporre eh quello che sono appunto le costellazioni rituali che è il metodo che eh insegno insieme a mia moglie mia moglie stessa ad esempio si è specializzata in eh nei traumi della nascita del parto e della gravidanza e quindi offre un corso eh specifico dedicato a questo all'inizio delle costellazioni venti anni fa eh non non c'era assolutamente tutto tutto questo aspetto del dei traumi per i natali prenatali che invece adesso si vede quanto sia importante quanto determini il destino delle persone quindi siamo tutti in cammino e si spera che insomma si spera a meno io cerco di farlo in maniera eh così eh positiva in maniera di offrire strumenti alle persone per migliorare la loro vita ehm la serie serie come questa di another self non sono altro che uno strumento in più eh che eh possiamo utilizzare proprio per promuovere eh i nostri intenti. Allora una serie Marco abbiamo detto all'inizio che è turca eh quindi è è una particolarità questa che ha societato ancora interesse e stupore è turco il regista sono turchi gli attori così come è turca lo scenario è turco lo scenario è l'ambientazione della storia ecco che ipotesi si possono fare sulla Turchia quindi come eh madre patria di questa serie. ma ehm ho scoperto tra l'altro che vedendo questa serie che Zippo la una delle tre protagonisti principali è già nota in Italia per altre serie ha partecipato a ad altre serie tv quindi era già nota al pubblico italiano ehm è stato un fulminaccio sereno per me scoprire che questa serie ehm fosse turca e che venisse dalla Turchia proprio perché beh siamo eh non siamo soliti pensare alla Turchia per lo meno io non sono solito pensare alla Turchia come un paese all'avanguardia mentre invece eh evidentemente almeno dal punto di vista delle terapie olistiche eh mi sbagliavo eh perché appunto eh beh sappiamo la Turchia è un paese islamico ehm è un paese che insomma viene citato dai nostri governanti come retto da un dittatore a più riprese poi invece si ricredono e vanno a fare degli accordi con lui e insomma entra nell'Unione Europea non entra nell'Unione Europea insomma sono tutta una serie di ehm così aspetti geopolitici aspetti culturali che fanno sì che eh l'italiano medio o l'occidentale medio ancora di più ancora meglio eh pensi eh non pensi alla Turchia come un paese all'avanguardia ma in realtà secondo me tutto questo eh aiuta a e contribuisce ad aprire gli occhi a noi occidentali sul fatto che non siamo il centro del mondo noi europei noi occidentali comprendendo il mondo anglosassone ehm in realtà ci crediamo di essere al centro del mondo e pensiamo ehm dire che esista soltanto il nostro modo di vivere l'esportazione della democrazia e tutto tutto quello che eh sappiamo a livello politico a livello strategico e a livello culturale eh crediamo appunto che il mondo il mondo islamico il mondo l'oriente l'Africa il Sud America la Russia siano insomma dei i margini dell'impero siano a come dire meno importanti di della vera cultura che eh noi europei eh e noi occidentali portiamo con noi insomma no? in realtà questo non emerge altro che il solito eh eh vetusto eh così centralismo europeo eh che ha dato via via al colonialismo nei secoli scorsi eh di pensare di essere i portatori della della verità infatti nei secoli scorsi non abbiamo fatto altro noi europei che andare a colonizzare l'Africa, l'America, l'America e l'Oriente eh appunto dal punto di vista di nostro è molto molto eh egoistico no? Eh mentre invece il fatto che eh una terapia così all'avanguardia eh venga messa sul grande schermo a partire da un paese islamico insomma eh che ha un certo peso a livello geopolitico ma comunque è marginale rispetto alla alla supposta centralità occidentale ci aiuta a riflettere a mio avviso e anche anche questo è una delle prime avvisaglie di eh quello che sta per succedere eh dal punto di alcun dal punto di vista geopolitico e che in realtà sta già succedendo il fatto che appunto in questi giorni la Russia, la Cina, l'India eh i cosiddetti BRICS eh si uniscano eh in questo accordo eh so che in questi in questi giorni ci sono riunioni sono state nel Vladivostok in Russia, a Samarkand, insomma sta succedendo grandi sommovimenti eh geopolitici eh per cui l'asse del mondo si sta spostando evidentemente come molti commentatori eh affermano dall'occidente soprattutto l'occidente anglosassone di cui noi siamo colonie si sta spostando verso l'Eurasia quindi i grossi colossi eh che ho citato appunto la Russia, la Cina, l'India sono i nuovi protagonisti e lo saranno sempre di più nel futuro al punto di vista commerciale, dal punto di vista strategico, dal punto di vista eh finanziario e evidentemente questo l'aspetto culturale non può che seguire a ruota o ancora di più forse essere il motore di questi grandi cambiamenti che sono stati eh predetti anche a livello astrologico per esempio ricordo le parole eh del compianto Valentino Bellucci, professore che è comparso anche in numerosi tuoi video qui su Border Knights, Fabio, che aveva previsto eh tutto questo ehm prima di ahimè lasciarci eh prematuramente e quindi ehm eh a mio avviso il fatto che emerga questa serie fatta in Turchia non è altro che espressione del fatto che eh appunto il baricentro del mondo si sta spostando e noi per quanto riguarda noi italiani dobbiamo un po' decidere se continuare a decadere insieme ai nostri così i nostri imperatori che stanno appunto tra Londra e Washington oppure staccarci magari anche solo a livello culturale se non possiamo farlo a livello politico e guardare al resto del mondo a quel settanta per cento del mondo che invece eh sta proponendo qualcosa di nuovo no? ehm noi 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 europei soprattutto noi italiani ma anche i tedeschi insomma gli spagnoli siamo eh succubi dei eh negli anglosassoni dal punto di vista culturale eh ad esempio abbiamo magari indossiamo magliette con scritte in inglese eh o visitiamo una un luogo negli Stati Uniti o in Inghilterra e allora ci compriamo la felpa di eh di va di moda insomma indossare una felpa eh io stesso lo faccio eh con scritto una scritta in inglese no? Mentre invece se andiamo non so a mh se ci ricchiamo a Caltanissetta piuttosto che a Castellammare di Stabia non ci sogniamo mai di non ci sogneremo mai di di o pochissimi lo fanno di prendere una maglietta scritto Castellammare di Stabia e almeno non avrebbe lo stesso effetto con le persone di quanto non lo abbia una una maglietta scritto USA no? Per cui eh e lo stesso ambito così televisivo l'ambito cinematografico i film di Hollywood da decenni e decenni eh sono stati il cavallo eh di Troia che è riuscito a entrare nelle nostre menti e a conquistarci culturalmente quindi noi prima che ancora eh vassalli dal punto di vista economico e finanziario siamo vassalli dal punto di vista siamo colonie dal punto di vista culturale io parlo molto bene la lingua inglese sono laureato in lingue ho viaggiato a lungo negli Stati Uniti eh in in Gran Bretagna in Australia però devo dire è che è giunto il tempo insomma che noi italiani che noi riscopriamo le nostre radici che eh scopriamo che eh non fa così moda soltanto eh così eh quello che viene dal mondo anglosassone ma abbiamo bisogno di riscoprire chi noi siamo dove siamo nati la nostra terra eh eh i nostri valori questo del resto le insegnano le costellazioni familiari a riscoprire le proprie radici e quindi il fatto che questa serie turca ehm che avrà probabilmente molto probabilmente un seguito eh venga proprio a questo paese eh occasione eh preziosa di riflessione a mio avviso. E grazie che hai analizzato per noi questa serie magari sarà venuta voglia di vederla io ho iniziato da poco quindi non sono entrato ancora nel vivo ho visto la la prima puntata e quindi eh sono otto se non sbaglio gli episodi quindi eh andremo a a raccontare magari poi in qualche altra puntata ti chiederò qualcosa eh di ulteriore su questa su questa serie. Bene Marco grazie di essere stato con noi ci rivediamo tra circa quattordici giorni per un'altra interessante chiacchierata so già l'argomento ma non anticipiamo grazie a tutti e alla prossima grazie Fabio di questa opportunità e saluto tutti gli ascoltatori e a presto.